E salve scusi, potrei salire a fare la cacca da lei? La cacca da lei? Uno che deve fare la cacca da lei, non ha una casa, mi scusi Eh no purtroppo, vorrei Ma come se ne vada? Questo è un pirla e adesso citofoneremo a Dio A Sant'Oro Sì, appunto E buonasera, mi scusi, potrei salire a fare la cacca da lei? Come no? Mi ha aperto, grazie, arrivo E buonasera, mi scusi, potrei salire a fare la cacca da lei? La cacca da lei? La cacca da lei? Salve scusi, lei è Dario Biggi? Chi è? Cerco Dario Biggi Ma chi è? Uno che cerca Dario Biggi Ma chi è? Te l'ho detto! Allora non capisci ci c'è bellissimo, no? Chi è? Salve, lei è una signora Pisanò? Sì, sono io Eh lo so, c'è scritto su un citropoli Come scusi? Eh lo so, c'è scritto su un citropoli Chi è? 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 Chi è?